al mio mulo non piace la gente che ride e sono sempre più stanco di queste frasi fatte ero in internet volevi informarmi sui film che programmano il film del palinsesto serale ho letto si, il protagonista è Clint Eastwood di questo film è il vero mattatore, basta con queste frasi fatte mattatore, mattatoio sei da manicomio, basta siamo stanchi siamo molto stanchi di queste frasi fatte Clint Eastwood è proprio mulo come me, è incarnazione del fascino superbo della nichilistica arroganza e sì, ieri alle candidature dei Golden Globe Awards sono state commesse due gravi dimenticanze a mio avviso invece qui sotto al Conrad ci sono quattro commesse avere innanzitutto trascurato vergognosamente la performance di Ethan Hawke in First Formed film come detto dal finale assai discutibile ma Ethan ha sfoderato nella suddetta pellicola forse la sua migliore interpretazione in assoluto e dunque ripeto mi pare alquanto scandaloso averlo messo in disparte speriamo negli screen actors e naturalmente negli Oscar e poi ovviamente Clint Eastwood del Corriere The Mule il film non l'ho ancora visto da noi uscirà soltanto a febbraio ma credo in tutta onestà che neppure i giurati dei Globes l'abbiano minimamente guardato perché basterebbe una clip che trovate della Warner Bros Pictures nel canale ufficiale YouTube quella della colonna sonora ecco a prescindere dal valore ultimo definitivo complessivo dell'opera per poter attestare che Eastwood fosse solo per la sua commovente faccia ragrinzita tenera e dolcissima avrebbe meritato la menzione speciale si meritato tu sei meritata si devo confidarvi quanto segue carissimi e anche acerrimi nemici validissimi forse invalidissimi si siete voi pensionati con la pensione di invalidità non Eastwood che ha 88 anni quasi 89 ecco io da tempo immemorabile mi sono appartato molto schivo refrattario alla vita sociale in una sorta di eremitica perciò virtuosa vita iper coscienziosa al di sopra delle squali delle piccinerie oltre alle regole falsamente basiche di un mondo ipocrita e pusillanime anche regole basali sì colonne portanti e tengo a distanza le chiacchiere chiacchiericcio le possibili calunnie che inevitabilmente proprio a ragione di questa mia anomala bellissima scelta esistenziale mi attiro addosso cattivere inaudite sputate da vomitevoli bocche stomachevoli che mi ha stancato qui distomacato disgustato in una parola stufato anche nauseato beh c'eri luoghi comuni atti a prescrivermi istruzioni per l'uso di questa vita hai capito come si sta al mondo o no? come se la vita fosse un casellare un questionario un quiz a crocette una battaglia crociata di rigidi percorsi a tappe per non venire sbattuti al tappeto a cui adattarsi improntarsi conformemente remissivi senza abbattere ciglio senza opporci con la nostra viva dio unica personalissima anima perfino impura masturbatori in ogni senso autoreferenziale ombelicale e se mai omologarci a narcisistici morettiani precetti malati di solipsismo si è stato immenso Goffredo Fofi quando abbellamente sottilmente sputtanato Nanni Moretti e il suo accalorato pubblico di pecoroni finti sinistroidi personaggi da CGL che pendevano dalle labbra di quest'autarchico post-sessantottino quanti anni ha adesso? 61 ma non so e hanno sempre aspettato i suoi mediocri blandi filmetti come fossero irrinunciabili appuntamenti da concerto di Woodstock e si scompisciavano dinanzi alle sue battute alle sue tirate d'orecchie ai suoi girotondigi girotondi in vespa a questa sua magnificazione della piccola borghesia apparentemente schierata politicamente ma in vero più fascista della maggioranza del sistema da costoro aspramente criticato osteggiato ma in realtà accettato a cui sono stati i primi ad abdicare celandosi dietro ribellioni di maniera ritorici discorsi pazzi in piazza e sventolio di bandiere rosse avanti popolo l'arriscos dietro trasgressioni fasulle da uomini insinceri tristi appagati facendola facendosela sotto nella facciata appunto tediosamente intellettualistica di una vanagloria ancora più pericolosa e barbosa della destra più facinorosa sì io so bene chi è moretti nanni un nano non fatevi ingannare uno che memore delle scopate che aveva con Bianca ha ficcato Laura Morante nella stanza del figlio che famiglia schifosa solo per succhiarle di nuovo il seno con la scusa della scena empaticamente coniugale complicità e ficcò il cammeo di Jennifer Beals in caro diario perché fanatico delle sue cosce in flash dance feeling feeling c'è feeling con Jennifer vero sperava di corromperla per uno stress da vampiro da Campbell Scott di Roger Dojo non poteva esserle franco che ne so andare da Jennifer presentarsi così sai Jennifer dopo il tuo momento di gloria a Hollywood non ti cagano molto io sono Moretti un regista molto cazzuto portato su un piatto d'argento in Italia sai vorrei sbattertelo di strange dies perché sei una strafiga ci stai poi posso darti anche una particina in aprile per farti rifiorire come in una maledetta primavera per innamorarsi basta un'ora Moretti basta meno di un'ora bastò vedere il culo di questa moretta maledetta primavera da Loretta 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 Goggi un'ora un'oretta insomma una merda ne ho viste tante sono quelle ex professorine ora in pensione mi auguro presto seppellite che guardavano tutti i programmi cool turali di Serena Dandini poi mettevano il dadino nel brodino strofinandosi la figa parcia con la mortadella la mortadella di un marito pasciuto alla Gianfranco Funari donne dunque più volgari classiste i cafone delle troie che odiavano disprezzavano e volevano bruciare mettere a rogo delle streghe ma mettete sul ragù è meglio non a rogo al ragù ma cosa insegnavano i loro studenti adempiere al fighetto inculare il prossimo col potere ricattatorio di un pezzo di carta per pulirsi il deretano se in secondo queste megere vacche ogni ragazzo che non frequentava il classico sarebbe stato estromesso dalla società che conta e si viene tagliati fuori perché non aveva formato anzi io io direi formalizzato la forma mentis del cazzo in parole povere poverette poverette come codeste donnette che avevano figli come Silvio Muccino di come te nessuno mai a loro volta pubescenti idolatri di Tarantino e poi cresciuti a moralismi peggiori dell'inquisizione del nome della Rosa e si dopo averli indotti e indottrinati al classico talmente catti hanno indirizzato i figli agli studi da Umberto Eco Eco obbligandoli a non andare allo stadio e roba da sottoproletari orribili bensì inducendoli a mentali stadi 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 da tribuna elettorale si ficcandoli psicologicamente oserei dire in modus ermeneutico semanticamente semiologico a studiare le teorie illogiche di tal fervido abietto fautore di una delle più grosse stronzate sintattiche della cultura uscinamente giornalistica ovvero scienze delle comunicazioni facoltà per futuri imbecilli come il bot botanir bot montemagno sì dove ti insegnano a comunicare per farci capire capire che come se un articolo di un giornale fosse un graffito preistorico e per far comprendere al tuo simile che non sei vegetariano e sei inserito al vertice della gerarchica scala alimentare col sangue di porco dipingi di murale un maiale scannato offerto in sacrificio per natale al popolino come fosse un grasso lardoso zampone con le lenticchie sì l'altro giorno un tale frattini no ma questo non ve lo dico potete leggerlo nel mio genius pop diciamo che un falsario questo frattini uno da vignette di forattini un falsario la totò della banda degli onesti che mi ha criticato in maniera durissima ma voleva costui forse essere un sempliciotto come non voleva essere un sempliciotto come il compianto suo concittadino troisi ma che a mio parere trattava tutti come fosse il direttore del circo massimo rimanendo rimanendo ideologicamente al minimo storico simpatica bestiolina questo frattini un frustrato che giustamente frustai sì ecco nella mia vita me ne hanno volute combinare delle belle volevano che rinegassi le mie scelte ripartissi da capo mortificando il mio io interiore affinché mi miserissi nel porcile di massa mercantile spaventoso vollero ma io non vogli fortissimamente non vogli vollero che mi curassi per alleviare le mie pene e sì pene gliel'ho messo in quel posto ancora una volta perché sono un colorito armonioso fiorellino e al mio mulo non piace la gente grida